Ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori di Radio Puggino NER. Parleremo in questo episodio di un appuntamento imperdibile nel panorama dei talk show italiani. La nuova puntata, la seconda puntata di questa stagione di accordi e disaccordi, il programma di approfondimento che come ogni settimana non manca di offrire uno sguardo acuto sull'attualità italiana e internazionale. Grazie anche e soprattutto agli ospiti che ogni settimana cambiano, ma ci sono anche degli ospiti fissi. Infatti il conduttore Luca Sommi, affiancato da Marco Travaglio e da Andrea Scanzi, è pronto ad accogliere alcuni ospiti di grande spessore per un dibattito che si preannuncia ricco di contenuti e di confronto acceso. Dunque oggi, 5 ottobre alle 21.30 su 9, non perdete questa nuova puntata che vede la partecipazione di Carlo Calenda, Aldo Cazzullo, Rula Gebreal e Gard Lerner, ma ne parleremo tra pochissimo con tutte le nostre anticipazioni dopo la nostra sigla. Non perdetevi ogni giorno i nostri approfondimenti, sulle notizie e gli argomenti che ci vuotano attorno. Primo ospite in studio sarà Carlo Calenda, leader di azione, una figura politica molto attiva e spesso al centro del dibattito per le sue posizioni critiche verso il governo per il suo progetto di un terzo polo moderato. Calenda ha avuto una lunga carriera come manager e ministro dello sviluppo economico, ma oggi è soprattutto un punto di riferimento per chi cerca un'alternativa sia alla destra sia alla sinistra tradizionali. Il suo approccio diretto e pragmatico, unito alle sue frequenti critiche a vari esponenti politici, promette uno scontro dialettico intenso con gli altri partecipanti. Accanto a lui un altro ospite di spicco sarà Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore di fama, noto per la sua capacità di raccontare in maniera chiara e coinvolgente i grandi temi dell'attualità e della storia italiana. Con il suo stile lucido e talvolta provocatorio, Cazzullo si distingue per la sua visione critica ma allo stesso tempo costruttiva del panorama politico italiano. Anche lui ha spesso offerto riflessioni profonde su come l'Italia stia affrontando i cambiamenti globali e interni. A rendere ancora più interessante la puntata sarà la partecipazione in collegamento da New York di Rula Jebreal, giornalista di fama internazionale, che offrirà una prospettiva esterna sugli eventi che stanno scuotendo il Medio Oriente. Jebreal è conosciuta per le sue analisi approfondite e coraggiose sui conflitti internazionali, in particolare sul mondo arabo e sulle relazioni tra Israele e Palestina. Con la recente escalation di violenza, con l'invasione del Libano da parte di Israele e l'attacco iraniano su Gerusalemme e Tel Aviv, le sue osservazioni saranno fondamentali per comprendere meglio le dinamiche in corso. Jebreal ha spesso portato all'attenzione del pubblico questioni che riguardano i diritti umani e la politica estera americana e il suo intervento potrebbe aggiungere un'importante dimensione globale al dibattito, contrastando le analisi più interne dei suoi colleghi studio. Un altro ospite importante sarà Gad Lerner, che interverrà in una conversazione registrata offrendo il suo contributo, il suo video intervento su temi che toccano la politica internazionale e le sue ripercussioni sulla politica italiana. Lerner, giornalista e scrittore, è noto per il suo approccio critico e indipendente e per aver affrontato spesso tematiche sociali dedicate come l'immigrazione e la giustizia sociale. Con lui si esploreranno sicuramente tematiche legate all'attuale scenario geopolitico, ma anche legate alle questioni di fondo che riguardano la democrazia, il ruolo dell'Italia nel contesto europeo-internazionale. Come sempre, a moderare e ad arricchire il dibattito ci sarà Marco Travaio, direttore del fatto quotidiano che non mancherà di esprimere le sue posizioni, spesso fortemente critiche, verso il governo Meloni e la classe politica attuale. Travaio avrà anche il suo spazio in cui si esibirà nel suo monologo, dunque davvero sarà interessante seguire questo suo intervento, questa sua performance. Travaio ha sempre avuto uno stile diretto, talvolta ironico nelle sue analisi, anzi spesso ironico, capace di smascherare le contraddizioni del potere con argomentazioni affilate. Il suo contributo sarà essenziale per mantenere alta l'attenzione del dibattito per offrire un punto di vista scomodo ma necessario. Al suo fianco ci sarà Andrea Scanzi con la sua rubrica settimanale delle pagelle, in cui dà i voti ai politici italiani e commenta le loro affermazioni più controverse. Scanzi è noto per il suo stile schietto e irriverente e anche questa volta non mancherà di distribuire qualche stangata verbale ai protagonisti della politica nazionale. Le sue pagelle sono un appuntamento fisso per gli spettatori del programma, un momento atteso per scoprire chi sarà promosso e chi bocciato tra i politici della settimana. Questa puntata di accordi e disaccordi si preannuncia particolarmente densa di contenuti. Tra i temi principali ci sarà certamente il Medio Oriente, un'area del mondo in cui le tensioni e i conflitti sembrano non trovare mai una vera soluzione. L'invasione del Libano da parte di Israele, l'attacco dell'Iran su Gerusalemme e Tel Aviv sono solo gli ultimi episodi di una lunga serie di violenze che coinvolgono attori globali e locali in un intricato gioco di potere. Con l'escalation militare e le conseguenze umanitarie che si stanno già facendo sentire, il dibattito su come l'Occidente dovrebbe rispondere sarà centrale. Ma oltre ai temi internazionali si parlerà anche di politica interna. A sole due settimane dal voto in Liguria, una delle ultime prove elettorali prima delle elezioni politiche generali. Come incideranno questi risultati sulla coalizione di governo e sull'opposizione? Calenda avrà sicuramente molto da dire su come intende posizionarsi nel panorama politico attuale e su quale sarà il futuro del suo movimento. Le riflessioni di Cazzullo e Lerner aggiungeranno ulteriori spunti, offrendo un'analisi più ampia e critica storica delle dinamiche politiche in atto. Non ci resta che invitarvi a non perdere questa puntata, nuova puntata di accordi e disaccordi, un'occasione imperdibile per ascoltare opinioni diverse e confrontarsi su temi che toccano da vicino la vita di tutti noi, sia sul fronte interno che su quello internazionale. Oggi, sabato 5 ottobre alle 21.30 sul 9, preparatevi ad una serata di grande approfondimento e confronto. Come sempre su Radio Puggino NER continueremo a seguire da vicino queste vicende, ciò che diranno i protagonisti portandovi notizie e commenti sui temi più scottanti del momento. A presto e al prossimo episodio di Radio Puggino NER.